I lavori sono durati circa un anno per una spesa di 1,7 milioni di euro, ma ora il ponte Vespucci è riaperto a pedoni e viabilità. Firenze è un modello nazionale per la prevenzione e la messa in sicurezza di ponti e opere infrastrutturali, ha sottolineato il sindaco Dario Nardella, ricordando che i lavori di consolidamento del pilone del ponte progettato da Riccardo Morandi erano stati previsti prima del crollo del ponte di Genova, firmato dallo stesso ingegnere. Voglio dire però, continua Nardella, che questo è l'unico ponte in Italia realizzato dall'ingegner Morandi messo definitivamente in sicurezza dopo quel disastro. Inoltre, quello sul Vespucci, continua, è stato uno degli interventi ingegneristici più complessi mai fatti su un ponte a Firenze negli ultimi decenni. Il fiume aveva scavato una profonda fossa di erosione al di sotto del pilone che era arrivata a una profondità di 4-5 metri. Per questo, spiega Vincenzo Tartaglia, capo della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità di Palazzo Vecchio, è stata adottata una tecnica che poche altre volte è stata utilizzata in Italia. A monte e a valle del pilone è stato depositato del materiale sciolto, legato dal cemento, mentre la cavità è stata completamente riempita dal calcestruzzo. Monitoraggi periodici verranno comunque effettuati sull'alveo intorno al ponte. Il ponte Vespucci avrà anche tra qualche mese una nuova illuminazione, che partirà da una stele posta al centro e una nuova pavimentazione al posto dei San Pietrini, per quella il Comune sta aspettando l'ok della soprintendenza. Lavori che inizieranno in primavera e saranno molto meno impattanti e più rapidi, assicura Nardella. Grazie. Grazie.